ciao a tutti ragazzi eccomi qua sono megaticker qua davanti a me nuovamente le bellissime vi dico già ve lo spoilerò inizio video le bellissime turtle beach stealth 700 gen 2 versione max le ho portate già in unboxing qualche tempo fa e oggi siamo qui per fare una recensione completa delle cuffie e dirvi cosa ne penso di questo acquisto vi dico già per chi pensasse di aver già visto la recensione avere un deja vu che queste cuffie sono praticamente identiche costruttivamente alle vecchie 700 gen 2 ma in realtà apportano alcune piccole e grandi modifiche che a mio avviso le fanno assolutamente preferire alla vecchia generazione andiamo da ogni modo ad aprire il pacchettone a tirarle fuori e senza ripetervi quello che c'è nella scatola vi dico che questa chiavetta è la chiavetta dei miracoli ebbene sì perché attraverso lei attraverso la selezione usb e xbox potrete usare queste cuffie su ogni piattaforma da gaming che voi possediate possono essere quindi collegate a playstation 4 playstation 5 xbox nintendo switch e pc tramite questa bellissima chiavetta questa di fatto è la differenza veramente la differenza maggiore quella che sulla carta le differenze tantissimo dalle stupende cuffie 700 gen 2 che avevo già recensito e che vi invito ad andare ad integrazione di questo video a guardare il link che appare adesso in alto a destra lì avevo già spiegato perfile per segno tutte le qualità di queste cuffie oggi farò un riassuntone perché di fatto il 90% di quello che dirò l'avevo già detto appunto nell'altro video e quindi senza indugi passiamo subito alla disanima di queste bellissime cuffie confermo ancora una volta che l'estetica delle cuffie del turtle beach non ricade tantissimo nei miei gusti a me non piace tutto questo plasticone in vista però sinceramente questa colorazione questo blu cobalto questa parte dorata conferiscono alla cuffia veramente un'estetica che va un po a sopperire le forme delle plastiche ci sono anche in altre colorazioni la classica nera e forse bianca adesso non ricordo bene ma al di là di questo che è prettamente un gusto soggettivo di oggettivo c'è il fatto che i materiali sono più che buoni i padiglioni sono morbidissimi pelle all'esterno stoffa all'interno già refrigerante a contatto con la pelle sono delle cuffie molto avvolgenti ma di fatto non fanno sudare la testa qui sotto bellissimo fatto così senza la retina che lo copre si intravede il driver da 50 mm driver che funziona veramente bene per quanto riguarda le caratteristiche sonore vi rimando alla fine del video ma vi anticipo che sono veramente molto molto soddisfatto come vedete il microfono e come già dicevo in unboxing è situato qui un meccanismo che a me non piace tanto mi sa di fragile ma in realtà è più una sensazione che una reale caratteristica il microfono si sente bene anche quello vi rimando alla fine del video dove le conclusioni magari le farò con le cuffie in testa e la registrazione partirà direttamente dal microfono per farvi sentire come si sentono ad ogni modo questo azionamento meccanico esclusione del microfono semplicemente tirando su funziona benissimo non manca un colpo in game molto comodo così come molto comodo ovviamente questo bellissimo snodo ve lo ridico mi sembra veramente di fare lo stesso video dell'altra volta ma vi dico nuovamente per chi non l'avesse sentito che i comandi sono tutti sul padiglione sinistro e questo a me non dispiace affatto perché si imparano velocemente ad utilizzare la loro opposizione anche complice il fatto che ad esempio hanno differenziato il tastino per esempio dell'accensione tutto piatto l'hanno emesso in mezzo a due tastini che invece sono in rilievo quindi si trova facilmente basta memorizzare poi che in alto c'è la modalità mode in quella in basso bluetooth e non ci si sbaglia più nell'azionamento dei comandi stessa cosa per la rotella in alto che è il volume funziona molto bene è una rotella non infinita un minimo e un massimo mentre invece la rotella che vedremo dopo con l'ausilio dell'applicazione tramite smartphone è una rotella che accede ad alcune funzioni che dovrete decidere voi nell'applicazione quale siano spesso mi chiedono se le cuffie possono essere utilizzate anche mentre si ricaricano la ricarica intanto qua sotto tramite usb type c se comprate solo le cuffie in casa non avete altri cavi beh la risposta è sì tecnicamente funzionano ma capite bene che con questa lunghezza di cavo difficilmente potrete caricare le cuffie mentre le state utilizzando ad ogni modo qua dietro vedete 40 ore di utilizzo la batteria appunto dalla versione precedente è aumentata io sinceramente faccio veramente sempre tanta fatica scusatemi a testare effettivamente le reali ore di utilizzo perché è bazzico da una cuffia all'altra da un gioco all'altra da una console all'altra ma quello che vi posso dire è che la durata mi è sembrata veramente ottima la cuffia è indicata per le persone che non hanno un cappuccione molto grosso perché questa azione dell'archetto è un'azione che stringe molto la cuffia sulla testa anche aprendo al massimo la nostra cuffia la pressione dei padiglioni sulla testa si fa abbastanza importante e secondo me per i capoccioni xl xxl potrebbe essere un fastidio non indifferente le cuffie ovviamente potete utilizzarle anche con il bluetooth attivo quindi ricevere fare telefonate mentre giocate sentire della musica proveniente da fonte esterna una funzione molto comoda che ovviamente al prezzo che sono vendute era assolutamente auspicabile quello che invece non potrete fare come di fatto non si poteva fare in quelle precedenti è collegarle tramite jack che come vedete è assente a una fonte dotata di spinotto quale potrebbe essere un telefono una nintendo switch o comunque qualsiasi apparecchio munito di jack da tre e mezzo ad ogni modo vista la multi compatibilità resa possibile dalla chiavetta mi sembra in questo caso un peccato veniale e credo che pochi ne sentiranno effettivamente la mancanza vi consiglio appena le comprate di andare subito sul sito dal vostro pc scaricare il programma e scaricare l'ultimo aggiornamento disponibile so che ce n'è uno sicuramente io l'ho fatto ci ha messo un po di tempo effettivamente a farlo l'aggiornamento riguarda le cuffie ma anche la vostra chiavetta infatti quando avvierete il programma vi verrà richiesto di collegare sia le cuffie che la chiavetta usb come vi dicevo un riassunto ne ho cercato di farlo abbastanza velocemente ma lo sapete non ho il dono della sintesi ma adesso passiamo a parlare tranquillamente della resa sonora una resa sonora che a memoria mi sembra anche migliore della versione precedente io non so sinceramente purtroppo non ho avuto modo di provarle perché non le ho più non so se appunto il passare del tempo mi ha fatto scordare come si sentivano ma l'effetto alle orecchie di queste cuffie mi hanno fatto veramente dire wow che bel audio che bel suono molto armonioso molto equilibrato nei bassi nei medi e negli alti e con un'ottima direzionalità quando lo sfruttate nei giochi soprattutto negli sparatutto vi farò vedere adesso se avete voglia di rimanere un attimo con me l'applicazione cosa prevede nelle sue modifiche ad ogni modo ci sono settaggi che rendono veramente una personalizzazione ad hoc per ognuno di voi quello che voglio segnalare è per gli amanti degli audio fortissimi che a discapito del driver da 50 millimetri mi sarei appunto aspettato un audio leggermente più forte non è altissimo anche ai massimi volumi però ripeto è un audio che non distorce mai e si sente veramente molto molto bene a tutti i livelli di volume sinceramente ho già promesso queste cuffie a una persona le venderò perché comunque devo per forza di cose far girare un po di soldi per potermi permettere di comprare cose nuove da portarvi sul canale ma sinceramente lo dico veramente col cuore mi dispiacerà moltissimo non averle in casa mia andiamo un attimo a fare una scorsa veloce dell'applicazione delle sue funzioni per passare come dicevo con la registrazione cuffie alla testa e microfono attivo registrazione per le conclusioni finali su queste cuffie ok ragazzi come vedete l'applicazione si chiama audio hub si compone di queste tre paginette e sulla prima potete abilitare disabilitare il super human hearing che ecco la funzione proprietaria appunto di turtle beach che vi fa aumentare la percezione dei passi nei giochi sparatutto come vedete si può anche regolare da 0 a 100 per cento questa funzionalità e quindi cucire addosso effettivamente come vi dicevo prima i settaggi sonori che più vi piacciono potete abilitare il ritorno della vostra voce nel del microfono e anche qui potrete decidere da 0 a 100 per cento quanta percentuale di voce vorrete che ritorni in cuffia e quindi se sentirvi di più o sentirvi di meno ci sono poi le equalizzazioni preimpostazioni di gioco suono caratteristico potenziamento bassi alti vocale oppure personalizzato che a dire il vero come vedete non ha tantissime possibilità di personalizzazione ma vi assicuro che comunque si riescono a ottenere ottimi risultati anche avendone così poche vi dico già e mi scuso potenziamento della chat non so bene cosa significhi io ho provato velocemente ad azionarlo mentre ero in party o comunque in chat vocale con altre persone e non ho notato una grossa differenza andando alla seconda pagina come vedete potete attribuire una funzionalità sia al tasto e decidere appunto se schiacciando il tasto mode la cuffia accenderà superhuman oppure le preimpostazioni di gioco cancellazione del rumore del microfono perché ci sono anche quelle o questo fantomatico potenziamento della chat se non l'avete messo lì potete ad ogni modo la cancellazione del rumore impostarla anche da qui e la rotella quella sotto il volume anch'essa può essere utilizzata per modificare diversi parametri volume della chat monitoraggio del microfono superhuman oppure il volume del bluetooth che potrebbe essere effettivamente una gran bella idea ricevete una telefonata volete dosare il volume non avete il telefono per le mani con volume bluetooth potete anche abbassarlo o alzarlo il livello messaggi vocali sono quelli che si sentono ogni qualvolta voi abilitiate una funzione ci sono dei ritorni in cuffia in inglese di quello che state facendo l'altra i livelli dei toni invece sono toni dei beep che avvertirete quando ad esempio accenderete spegnerete le cuffie o altre funzioni vado all'ultima pagina dove come vedete c'è la versione dell'app del firmware e tutta un'altra serie di informazioni sulle nostre cuffie ci dice anche in alto il livello della batteria della cuffia come vedete adesso al 100% e ci dà qualche indicazione ai loro social bene ragazzi siamo tornati cuffie in mano adesso le collego al pc per passare a quelli che sono le mie considerazioni finali su queste stupende stealth 700 gen 2 max ok ragazzi eccoci qua cuffie posizionate in testa microfono abilitato oltre a sentire come si sente la mia voce tramite il microfono delle cuffie siamo qua per fare tirare le somme su queste 700 gen 2 max in realtà sarà brevissimo come vi dicevo vi ho già spoilerato e ampiamente detto le cuffie sono veramente stupende un ottimo acquisto mi sento di sconsigliarle solo a chi ha la testa veramente grossa perché magari potrebbe avere problemi di calzata a tutte le altre persone se sono disposte a smenare oltre 150 euro e magari come me hanno più piattaforme dove desiderano utilizzare un paio di cuffie sono assolutamente tra le miglior scelte che voi ad oggi possiate fare vi lascio quindi il link in descrizione per monitorare il prezzo di acquisto se vi è piaciuto il video se vi è tornato utile lasciate un like iscrivetevi al canale magari accendete la campanella per non perdere i prossimi contenuti se avete le domande giù in descrizione noi ci vediamo alla prossima qui è mega ticker e ciao